Il comune di Giulianova ha lavoro per cercare di trovare una soluzione all'annoso problema degli allagamenti, in particolare dei sottopassi causati dalle abbondanti piogge, come avvenuto la scorsa settimana. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i canali di scolo, in particolare un vecchio canale a mare, ubicato sulla parte posteriore della radice del molo nord. Secondo il comune, con ogni probabilità la criticità creata si una settimana fa per la pioggia sarebbe parzialmente dipesa proprio dal mancato assorbimento di quello scarico che raccoglie le acque meteoriche provenienti addirittura dalla parte alta del paese, causato da una specie di tappo di terra e sabbia che non ha consentito il normale deflusso dell'abbondante acqua piovana. L'ispezione sul canale però non potrà essere immediata, visto che l'area interessata è posta sotto sequestro perché ricada all'interno della concessione intestata alla società Arlecchino, attualmente interdetta a seguito di provvedimenti giudiziari. Allora diciamo che stiamo facendo le ispezioni su tutti i canali a mare, ispezioni approfondite per capire bene se ci sono delle problematiche sui canali a mare. Sicuramente il canale a mare che è sotto lo sciarle Arlecchino, che come sapete è posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica, non può essere ispezionato, ma temiamo che è proprio quel canale a mare che è uno dei più importanti oltretutto sia ostruito. Quindi faremo richiesta sia alla Procura della Repubblica che alla Capitania di Porto per visionarlo e capire se quel canale ha delle problematiche. Un lavoro complesso quello che vi aspetta, visto che questo problema, cioè quello degli allagamenti, va avanti da tantissimi anni? È un problema che ha la città da almeno vent'anni perché le opere di urbanizzazione che sono nate negli ultimi anni appunto hanno incrementato il volume di acqua che va a defluire presso questi canali. Cerchiamo di risolverlo una volta per tutte e cerchiamo di fare un lavoro certosino che ahimè purtroppo dalle precedenti amministrazioni è stato portato avanti.